Musica Musica Correggimi se sbaglio, Farooq al-Mashire e il PLR prendono il potere in Iran lo stesso giorno del terremoto. Diventano una minaccia. Poco dopo mandiamo 50.000 marina a eliminarlo. Entriamo in guerra con l'Iran. È una lezione di storia. Qual è stato il tuo ruolo nella caccia ad al-Bashir? È una domanda difficile. Allora vedrò di farla più facile. La tua prima missione. Inizialmente l'analisi degli attacchi aerei nel quartiere settentrionale di Teheran... Analisi dei danni? Perché lo facevate? Procedure. Cercavamo un bersaglio importante che i caccia dovevano colpire. Da quel che ne so non sei famoso per seguire le procedure. Parlami del tuo rapporto con il tenente Colby Hawkins. Lei era un pilota di F-18. Lei? Non la conosco. Al tuo arrivo lei era impegnata in un attacco aereo contro al-Bashir. Hawkins, siamo passati ad Allarme 1. I piani sono cambiati. Partiamo adesso. Per il CAG oggi siamo speciali. Quindi non dobbiamo aspettarci nessuno di quei fottutissimi supporti a terra. Il DASC ci fornirà i dettagli in volo, ma effettueremo una missione d'attacco su Teheran, all'aeroporto Merabad. L'Ellint ha immagini satellitari. Credono di sapere dove sia al-Bashir. Perciò sfoderà gli artigli, Hawkins. Caccia grossa oggi. È più o meno tutto. Ci sono già aerei iraniani in volo. Fattore strizza, 9,7. Farò che al-Bashir sta per avere una brutta giornata. Ok, andiamoci dentro. Ok, procedete con il disinnetto del freno e la verifica di flampe annule. Hai sentito, Pinser? Flampe annule a sinistra. Ok, bene. Cominciamo a destra. Controllo dei sistemi d'arma. Attivare l'ATM. Luce, verde, davanti. Passo il cannone. Ok, scelgo buono. Controlli i missili. Armare, controllare i fleri. Armi e controvisure sono a pulso. Bene i fianchi. Monte in basso. Spi e pulzionanti. Pronti dietro, si va. Questa punta attenzione. NET 2050, Mami, center. Forza. Corri, scelgo buono. Caldiamo. Shark 46, cambia di rotta, 2-9-0, ricevuto Shark 46, forte e chiaro Shark 46, qui Shark 42, mia linea dritta Shark 46, B2-1-2, contatto, 13 km, poi volo 3.000 piedi sopra le ruvole in onda, mettete la vostra posizione cambia rotta, 3-1-0 Shark 48, 12-1-0, 3-1-0, 3-1-0, 3-1-0, 3-1-0, 3-1-0, 4-2, gira adesso Scegliamo, go, 3-1-0, 5-1-0, 4-1-0, ricevuto B1, tirazione buona C'è l'acqua di tracograva, 3-1-0, ricevuto Bravare, va bene C'è ancora il 4-b, il 4-b, rotto di saluto Ci siamo Premeto 2 Mestre una risposta dal BFF Mastanti, amici, amici Non è mai più difficile, non è più difficile, non è più difficile, non è più difficile. Grazie a tutti 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 Roger Grazie a tutti Roger Grazie a tutti 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 Grazie a tutti